è bellissimo perché ci sono radio capital ho lavorato 20 mesi intensi associazione musei sky art my movies nexo studio la grande arte del cinema e di dove è di reggio cristiano trovo senta ma in centro non c'è già in centro ma di fianco a piazza del monte non c'è una locandina di di questo cinema è un altro no stasera ero a fogliano si no ma mangiare no cercavo un ristorante poi ho trovato una sederia dove ovviamente mi hanno detto di no la ripresa me l'ho fatto lo stesso male ma non quello che avevo voluto ma ho voluto controllare se no ero diretto sarei andato in piazza del monte sì perché a me viene più spontaneo la poi mi mi devo ricordare che quando c'è una presentazione la fanno prima e non dopo bene allora profitto di lei caro come si chiama posto per far vedere indifferita la galleria delle foto che mi stava mostrando no no non quella lì non faccio tagli torni alle foto della serata di sandra campanini e cristiano travaglioli che deve essere parente di l'ex travaglioli fotografi